La Commissione Commercio del Comune di Agropoli sta lavorando al nuovo regolamento riguardante la disciplina di installazione e gestione di Deors, annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La materia, attualmente sospesa nelle sue linee tecniche, oggi viene affrontata, semplificata, approvata e messa in pratica per migliorare l'offerta turistica, favorire l'aggregazione sociale, per rivitalizzare la città. Intendiamo, afferma il Sindaco Coppola e il Presidente della Commissione Commercio, Monica Pizza, contemperare in modo equo le esigenze dell'amministrazione dei cittadini, le esigenze dei gestori nel rispetto dei principi di sicurezza e di riqualificazione dell'ambiente urbano. Il mio quotidiano confronto con operatori, associazioni, funzionari, tecnici vuole esaminare scrupolosamente tutte le problematiche che negli anni si sono verificate e lasciate sospese. Oggi, prosegue Monica Pizza, posso soltanto anticipare che con il nuovo regolamento, in continua evoluzione fino alla sua approvazione in Consiglio Comunale, sarà disciplinata la possibilità di installare Deors al fine di potenziare la qualità delle attività commerciali, di fornire servizi per il turismo, di migliorare le strutture in risposta alle richieste del mercato. La regolamentazione si applicherà su tutto il territorio, ma si distinguono criteri di applicazione diversi per le zone nel borgo antico, del fronte mare, quindi del restante territorio. È stata prevista inoltre una validità massima delle autorizzazioni pari a tre anni.